Edoardo Elisa, 15 secondi per convincere il pubblico di Occhio Pavese a votarvi Ok, votateci perché vi porteremo canzoni sempre nuove e canzoni moderne che passano per radio e che sapete tutti a memoria e canterete insieme a noi Grazie Se vuoi ripescare questo talento, clicca ora mi piace al posto originale del video oppure condividilo